Mossa. Magari quando usciamo da qui... Quali film ti piacciono? Sì, è sconforso da ore. Robert Chase. C-H-A-S-E. Ehi! È appena rientrato, scusi. Potevi chiamarmi? L'ho dimenticato. Di chiamarmi? Sono le due del mattino. Dove sei stato? Sei ubriaco. È vero, avevo bisogno di distruggermi. L'ho fatto. E ora sto meglio. Che cos'è che non mi dici? Niente. Ciao, papà. Mi sono sempre... Concentrato sulla cosa sbagliata. Ci sono stati anche dei bei momenti. Wilson! È una cosa stupida! Hai visto? Comincia davvero a stare meglio. Chi no! Cos'è che non mi dici a me, ma lìa che non mi dici a me. Qua'è! È un po' più importante. Grazie a tutti